Benvenuti amici di AndroidWorld.it Oggi siamo in compagnia di un controller che forse vi sembrerà di avere già visto perché in effetti lo avevate già visto qui sulle nostre pagine circa un anno fa Si tratta di PhoneJoy, il controller estendibile per inserire all'interno il vostro smartphone che questa volta si rinnova ed arriva in una nuova versione Esteticamente sembra davvero molto simile alla precedente ma c'è una differenza che ve lo farà preferire al 100% Andiamo a scoprire qual è Allora eccoci qui con il nuovo PhoneJoy e in realtà abbiamo anche il vecchio modello Lo si distingue perché quello vecchio in realtà sembra più rifinito perché ha tutte queste cromature attorno ai tasti, anche ai tasti sul retro Non escludo che questa qui essendo la versione non definitiva possa nel modello finale che sarà in commercio a partire dal 30 settembre avere comunque a sua volta delle cromature sui vari pulsanti Non sto a fare una recensione completamente ex novo perché abbiamo già recensito circa un anno fa il primo PhoneJoy Vi rimando quindi a vedere la recensione del primo PhoneJoy che trovate linkata sotto a questo video Per quanto riguarda il nuovo modello esteticamente siamo esattamente lì Il retro come vedete è uguale, stessa puntinatura per il grip Anche davanti sono praticamente identici al netto appunto delle cromature e anche qua sul retro sembra tutto uguale la posizione dei tasti, i led che indicano la carica e la posizione della porta micro usb per la ricarica stessa Non cambia in realtà nemmeno l'estensione perché PhoneJoy è un controller adatto a inserire al suo interno degli smartphone estensione che sostanzialmente rimane la stessa tra i due modelli sempre con questa cerniera come vedete con un sacco di molle che tende un po' ad incurvarsi verso vedete così, verso l'esterno quando lo andate ad estendere al massimo diciamo della sua dimensione dovrebbe poter ospitare smartphone fino a circa 6 pollici vediamo se adesso riesco a buttare per terra il Mi Note non è semplicissimo soprattutto avendo una fotocamera così vicina andare a inserire un telefono di queste dimensioni però come vedete ci si riesce abbastanza agevolmente queste piccole levette servono a tenerlo un po' di più in posizione ad assicurarsi che non sfugga la presa è abbastanza solida e garantita non so se riuscite a scorgerli bene da questi gommini che ci sono qui lateralmente dopo magari ve li faccio vedere senza telefono e non ci sono nemmeno problemi a meno che il vostro smartphone non abbia un pulsante di accensione collocato qua nella parte in alto ora qui mi è partita la torcia giustamente ma insomma come vedete anche con un dispositivo grande come questo Mi Note si riesce ad utilizzarlo abbastanza bene dicevo dei gommini adesso li posso far vedere un po' meglio sono questi qua che servono appunto a mantenere un maggiore grip sul telefono ovviamente lo avrete in mano mentre lo usate quindi dovrete cercare di stare un po' attenti a non scuoterlo troppo per evitare di non farlo cadere differenze che non si notano diciamo a primo acchito poi ci soffermeremo su quella che secondo me è la vera ragione per l'upgrade al nuovo Fonjoie anzitutto la maggiore autonomia Fonjoie dichiarava 8 ore di gameplay per il primo modello 14 per il secondo ovviamente poi dipende in realtà anche dallo smartphone accoppiato nulla esclude comunque che non utilizzate il telefono qua inserito al suo interno ma magari è collegato in ricarica e quindi a quel punto arriverete anche a ore continue di gioco in base ai nostri test non siamo arrivati così tanto però effettivamente l'autonomia è superiore al primo modello dovessimo azzardare una stima diremmo sulle 10-12 ore dipende un po' dall'utilizzo e dal dispositivo anche accoppiato ci sono migliorati anche i tasti sul retro L2 ed R2 non da un punto di vista estetico però adesso L2 e R2 sono analogici laddove non lo erano nel primo modello sono un pochino più duri alla pressione ma appunto l'aggiunta del fatto che siano analogici è appunto una piacevole novità cambia il tipo di connessione e questo secondo me è il vero fattore che ha portato all'aumento di autonomia o comunque uno dei più determinanti Bluetooth 2.1 Bluetooth 3.0 quindi migliore gestione del risparmio energetico ed è anche questo probabilmente appunto come dicevo uno dei motivi per cui questo nuovo PhoneJoy dura di più non è cambiata come vedete l'impostazione generale pulsante back, back start, stick analogici, deep pad pulsante per commutare le modalità di connessione e pulsante di accensione però comunque PhoneJoy assicura che è migliorata la compatibilità i titoli ovviamente sono tutti quelli che potete utilizzare con un controller Bluetooth da Modern Combat a Dungeon Hunter passando per i vari FIFA il classico Asphalt 8 insomma chi più ne ha più ne metta la vera differenza che però secondo me è una differenza importantissima sta negli stick analogici che se avete visto la nostra precedente recensione di PhoneJoy avrete appunto anche visto che erano il difetto principale qui i due stick sono addirittura bombati nemmeno incavati sono diventamente bombati, scivolosi e a filo della scocca e richiedono una discreta pressione proprio sullo stick stesso per essere manovrati col risultato che se dovete dare ogni tanto qualche colpettino magari per aggiustare la traiettoria dell'auto è un conto se dovete continuamente manovrare la direzione magari in uno shooter 3D o in un bombsquad o qualcosa di simile sono alla lunga abbastanza scomodi qui abbiamo il vero upgrade anzitutto non sono più al filo della scocca del gamepad come vedete sono abbastanza sopraelevati non troppo, diciamo non così tanto da comprometterne la portabilità sono incavati quindi il dito rimane molto più facilmente al suo interno la pressione da applicare è veramente pochissima rispetto al primo modello tendono un po' troppo secondo me a ruoteare su se stessi vedete con quanta facilità questo giri proprio sul suo asse questo dip pad però è l'unico vero difetto perché sono molto più comodi da usare perché alti molto più comodi da usare perché incavati sono anche penso l'abbiate sentito cliccabili insomma questa volta sono davvero due stick analogici fatti bene non al pari delle soluzioni più blasonate con controller non estendibili e non pensati magari per la portabilità ma senz'altro un decisissimo passo avanti che vi farà secondo me senza ombra di dubbio propendere per il secondo modello in luogo del primo soprattutto se appunto non ne avevate nessuno dei due veniamo alla disponibilità 30 settembre sarà il giorno del lancio esattamente come per il primo modello anche il nuovo PhoneJoy sarà disponibile in vari bundle si parte da 70 euro per quello base per arrivare a scusate 70 dollari in realtà per quello base per arrivare fino a 80 dollari per la versione Pro la versione Pro la differenza non sta nel controller sta negli accessori che troverete in dotazione tipo la custodia per portarlo a giro uno stand per tablet cavetteria varia insomma qualche accessorio in più per il vostro PhoneJoy ma in ogni caso se vi basta soltanto il controller stesso la versione base sarà disponibile appunto a 70 dollari a partire dal 30 di settembre upgrade come dicevo consigliatissimo sia per gli utenti della prima versione che vogliano un dispositivo effettivamente più comodo e più universale ma soprattutto per chi non avesse mai avuto un PhoneJoy per questa nostra prova è tutto un saluto da Nicola Ligas per AndroidWorld.it 5 6 6 8 12